Nei prossimi giorni la nostra regione sarà interessata da un'ondata di freddo di moderata intensità che a tratti potrebbe risultare intensa. Aria fredda che inizierà ad affluire dalla prossima notte ed iniziare dai settori più orientali per prorogarsi a tutto il territorio entro la giornata di venerdì 15 gennaio. Nel contempo sul terreno centro-meridionale si scaverà un minimo depressionario al suolo il quale richiamerà aria temperata e umida da sud-ovest. Dal contrasto con l'aria fredda in arrivo da nord-ovest si origineranno sistemi nuvolosi associati a precipitazioni che risulteranno nevose fino alle basse quote. Una situazione molto delicata a livello previsionale poiché anche a poche ore dall'evento una lieve modifica della posizione del minimo barico al suolo inciderebbe sulla distribuzione delle precipitazioni e soprattutto sul limite della quota neve. Per quanto riguarda il tempo previsto per venerdì 15 gennaio il cielo sarà da nuvoloso a molto nuvoloso con precipitazioni in intensificazione ad iniziare dalle aree costiere nevicate inizialmente a quote superiore ai 1000 metri ma con limite in progressivo calo nel corso della giornata. I fenomeni risulteranno più abbondanti sul settore centro-meridionale della regione e lungo la dorsale appenninica. Dal pomeriggio il limite della quota neve subirà un'ulteriore diminuzione attestandosi entro la serata tra i 200 e 400 metri delle aree interne esposte ad est della catena appenninica e ai 300 e 500 metri della costa. Tuttavia in serata le precipitazioni risulteranno molto deboli e si concentreranno sul basso tra il basso Cilento e il ballo di Diano. Temperature insensibile diminuzione, venti tra moderati e forti da prima da sud-ovest in rapida rotazione da nord-est ad iniziare dal settore settentrionale della regione. Mare molto mosso o agitato.